Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e andiamo con una nuova puntata di 7 News Special. Abbiamo oggi nello studio 4 due personaggi per presentare un avvenimento del prossimo weekend. Pietro Pavoni, uno dei fondatori del Raduno Nazionale Gemelli e gemello di Paolo Pavoni. Pietro, com'è iniziata la storia del Raduno Nazionale Gemelli ed ora siamo alla quindicesima edizione? Io e mio fratello in una cena come tutte le altre che si fanno durante la settimana ci siamo trovati su un ristorante e ovviamente è capitato che c'erano anche altri gemelli come me e mio fratello. Così parlando è uscito fuori l'idea ma perché facciamo un incontro con altri gemelli? Cominciamo a chiedere con quelli del posto? Eh ma come facciamo? Facciamo un sito internet e poi c'è anche Facebook e tutte queste cose qua. Così iniziando sempre con amicizie su Facebook e con il raduno sul sito nostro che abbiamo fondato diversi anni fa, cominciavano i contatti e abbiamo detto ma allora invece di una cena perché non facciamo una festa? Abbiamo iniziato nel nostro paese a San Zurino Marche e poi ci siamo spostati per diversi anni nel mare e poi siamo tornati di nuovo quest'anno nell'entroterra e abbiamo scelto un posto che per il centro Italia è penso il numero uno, il centro vacanze di San Faustino di Cingoli. Il centro vacanze verde e azzurro di San Faustino di Cingoli e abbiamo a proposito una delle titolari, Maila Rosetti, titolare del centro vacanze verde e azzurro che ha accettato con piacere di ospitare il Raduno Gemelli 2016. Sì per noi è stato veramente un piacere ospitare i ragazzi quest'anno per questo weekend, questa Kermess che veramente a livello nazionale penso sia molto importante, conosciuta, ci chiamano anche alcuni nostri turisti che vengono annualmente al centro vacanze che sono poi gemelli, vengono anche dall'estero per chiedere informazioni perché hanno saputo di questo evento di quest'anno e quindi chiaramente per noi è un lustro in più, una cosa in più da offrire ai nostri clienti ma anche un modo per farci conoscere anche un pochino più a largolaggio diciamo. Raduno Nazionale Gemelli 2016 desta allora molte curiosità, alcuni numeri Pietro? Quest'anno dalle chiamate che riceviamo io e Maila e anche dai social che ci scrivono le mail e secondo noi stiamo sicuramente raggiungendo le 100 o anche 120 coppie di presenze gemellari e quindi vi aspettiamo tutti ai curiosi e non a venire al parco. Perché poi queste presenze gemellari destano veramente molta curiosità. Maila, il programma di questo weekend diciamo doppio? E guarda i nostri animatori si stanno veramente cerberlando per preparare tutto nei minimi dettagli in modo che tutto vada bene dalla mattina alla sera quindi saranno molti giochi in piscina soprattutto, poi ci saranno anche per i bambini perché sono chiaramente anche coppie di bambini quindi tutto quello che è l'animazione del mini club, dall'avvidenza ai giochi adatti per loro e poi ci saranno ecco la sera chiaramente che sarà il clou di tutta la Kermess vabbè già a venerdì che è il giorno diciamo di arrivo per quelli che comunque sia per noteranno qui da noi faremo una serata lì al pub quindi con cabaret, giochi, musica, balli, karaoke e quindi chi più ne ha chi ne metta. Il sabato chiaramente sarà proprio invece l'evento più importante e la cosa che sicuramente resterà anche più curiosità è la sfilata dei gemelli. Chiaramente tutti questi gemelli che sfilano coppia per coppia anche addirittura tre gemelli perché abbiamo avuto anche le portazioni con tre gemelli penso che sia veramente una cosa curiosa, simpatica. Verranno anche premiati questi gemelli quindi ci sarà la premiazione per mister e mister gemelli, per quelli che vengono più lontano, per i bambini per la coppia più simpatica. Insomma ci sono tante veramente cose, tante cose nel calderone c'è soltanto da venire all'Acquaparco Verdo Azzurro a vederli e a conoscerli magari anche vedere e conoscere questi gemelli che invaderanno il Parco Verdo Azzurro nel weekend che va da venerdì 15, 16 e finire domenica 17. Pietro Pavoni, la curiosità è grande che cosa ci si aspetta per il weekend che sta per iniziare? Ci si aspetta una giornata di divertimento con i gemelli che non tutti possono fare lo potranno fare solo venendo al centro vacanze Verdo Azzurro e ci stanno contattando anche dei media tra cui ci ha chiamato una signora che lavora per la vita in diretta e volevano fare addirittura una diretta adesso stiamo mettendo d'accordo se quando possono venire oltre anche a tutti i media locali e delle marche perché la curiosità è tanta sicuramente sarà un bel vedere vedere tutti i gemelli sfilare in piscina una manifestazione che desta curiosità e poi anche un bel raduno una manifestazione che ha avuto il patrocinio del comune di Cingoli il sindaco Filippo Saltamartini è stato in conferenza stampa che ha accolto con grande piacere questo evento e noi di Radio Studio 7 e di TV 7 seguiremo tutta la Kermess con grande piacere come facciamo da molti anni Maila una battuta finale il Parco Verdo Azzurro invaso dai gemelli ma desta anche curiosità anche a chi poi non ha un gemello quindi si aspettano tanti anche tanti curiosi sì sì a questi giorni il Parco Verdo Azzurro innanzitutto diventerà la città dei gemelli e quindi anche molti che vedono le locandine i Deplian che sono sparsi insomma un po' ovunque ci chiamano e vogliono sapere come funziona vogliono sapere anche partecipare dicevo anche l'altro giorno che noi abbiamo anche molti clienti dall'Olanda, dal Belgio abbiamo una coppia che vengono dal Belgio con dei bambini gemelli e stanno cercando di venire un giorno prima proprio per partecipare a questo evento non so se ci riusciranno per problemi ecco anche del viaggio che è molto lungo di lavoro speriamo che vengano anche loro perché ecco veramente è una cosa molto apprezzata questa veramente un raduno molto apprezzato ma volevo chiedere a Pietro perché mi hai detto l'altro giorno che succedono anche delle cose strane al raduno dei gemelli c'è Cupido che si diverte anche a scagliare qualche freccia sì è capitato che alcuni gemelli che si sono conosciuti con delle gemelle ovviamente si sono anche sposati non tutti e due ma un gemello e una gemella si sono sposati ho anche mio cucino che si è fidanzato che veniva sempre alla manifestazione con una gemella e si trova anche l'anima gemella non solo gemelli quindi al raduno dei gemelli per trovare l'anima gemella sì vi aspettiamo tutti allora anche i non gemelli Maila un saluto per il Parco Verde Azzurro che in questi giorni sarà veramente invaso di persone si continuerà questo raduno dei gemelli anche nel 2017? beh questo lo devo dire Pietro e Paolo io spero anzitutto che il sole ci assista perché chiaramente anche se pioverà ecco la manifestazione si terrà ugualmente perché abbiamo dei luoghi al chiuso però chiaramente in un parco acquatico per divertirsi a pieno ci vuole insomma anche il bel tempo io spero di stare qui di nuovo anche il prossimo anno con Pietro per annunciarvi magari una nuova data poi vedremo cosa dirà il futuro ciao a tutti intanto noi aspettiamo tanti gemelli e non gemelli per questa kermesse veramente particolare e dallo studio 4 per 7 news special dal territorio di Cingoli abbiamo concluso studio 7 tv Oh!